Signori belli, sto giocando la beta, sono le due di notte del 31 ormai e boh, sto giocando la beta di Fallout 76 e questo è il mio personaggio al momento ho... come si dice? ho rivendicato questa zona qua, la discarica della gola e dovrei andare a fare un bel po' di missioni tipo parlare col sindaco, andare a vedere l'aeroporto di Morgatown ma quella roba la stai in punto che vedo, chissà cosa ora si sta facendo di nuovo notte però ci tenevo a farvi vedere così in modo molto veloce Fallout 76, la beta almeno ci sono qualche tratto talpa comunque, prime impressioni a caldo, veramente ti prende tanto io gioco da circa due ore, diciamo due ore e mezza e non me ne sono nemmeno accorto è fighissimo tutte le persone, tutti questi puntini che vedete sono gente reale che gioca davvero a Fallout questo è il voto 76 da dove si esce le missioni, diciamo, alcune missioni iniziali come tutorial ma non qua, poi tu ti allarghi, ti apri vedi dove puoi fare le missioni anche nei covers e praticamente ho esplorato solo questa zona qua così e ora sono arrivato qua la mappa sembra essere molto molto grande per passare da... da come si chiama questo posto Flatwoods a questo posto qua ci sarò stato 5-6 minuti di cammino a piedi boh, mi sta piacendo veramente tanto sì, il tricentennale 1776-2076 quando sono stati costruiti i Volt e questo l'anno, diciamo, la data di quest'anno diciamo, la data attuale mi pare che è il 2100 qualcosa e in sostanza siamo 25 anni dopo l'esplosione delle atomiche comunque del Fallout nucleare e boh, io spero di tanto di giocare con Lord perché anche lui l'ha preso spero anche altri della Geek che lo abbiano in possesso di provare sta beta e niente, si continua e mi raccomando fate attenzione in giro nel Commonwealth anche se non è il Commonwealth boh, era veramente un video brevissimo per semplicemente farvi vedere proprio quattro cose in croce di Fallout 76 dal 30 sera quindi c'è stata l'apertura della beta all'inizio c'era un po' di problemi per l'accesso ma hanno risolto in veramente poco tempo e hanno dato il via alla beta ufficialmente mucchio di legno, raccogli oh che figata va bene comunque sembra molto completo tra gestione diciamo della propria zona eccetera in sostanza questa come se fosse casa mia in basso vediamo i punti vabbè, i punti agilità, la fame, la sete la mappa i punti salute, le radiazioni poi in alto vediamo le le missioni attive al momento da qua si rivendica diciamo come se fosse il punto nevralgico di una zona da rivendicare non so penso ce ne siano altre e boh questo è fallout 76 la beta di fallout 76 ci vediamo prossimamente qui sul mio canale molto probabilmente sulla beta di fallout 76 al momento poi il 14 novembre esce ufficialmente il day one ovviamente l'ho preso chi c'è ah non c'è nessuno ovviamente da giocare con più persone è molto più bello nella zona qua fate attenzione soprattutto questa zona qua molto densa di nemici non vi spoilerò niente e boh mi piacerebbe visitare tutta la mappa anche se è bella grande le West Virginia va bene boh ci vediamo in giro per la Virginia ciao ragazzi com'è che si faceva con la G e saluto ciao a posto una che suona tanti saluti ciao 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 ciao